Ciao a tutti, non ho finito la collana, sono andata avanti però la vedo molto lunga, però siccome sul canale inglese mi hanno richiesto molto spesso di fare dei video di base, che poi sono i video che sono già presenti qui su Sarubes, ad esempio come fare il triangolo al peyote, come incastonare, come si fa la spirale russe, questi video di base non sono presenti sul canale inglese, ho deciso di iniziare con un video in inglese sul brick stitch e ve lo ripropongo pure in italiano, perché tanto ho fatto 30, faccio pure 31, una volta fatto il video non mi costa niente farlo anche in italiano, siccome ho visto che comunque il vecchio video brick stitch rimarrà online, non è che lo tolgo, era anche diviso in due parti, ho detto vabbè se magari è il caso di farne un unico video, tra l'altro con una risoluzione migliore, io sicuramente magari sono diventata anche un po' più brava a spiegare rispetto ai primi tempi, lo spero, e tra l'altro in questo video, non mi ricordo se nell'altro video ho fatto questa cosa, però in questo video, oltre a mostrarvi come si fa il rombo, quindi come decrementare il numero di perline presenti su una linea di lavoro al brick stitch, vi spiego alla fine del video anche come incrementare il numero di perline, quindi cosa dobbiamo fare nel momento in cui vogliamo che la nostra lavorazione diventi più ampia, so che quindi sì, è una sorta di copia, in questo video l'avete già visto, però spero comunque che vi possa essere utile, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao ciao! Prima di passare al tutorial, vorrei spendere veramente soltanto due parole per farvi notare una cosa, brick stitch piatto e fascetta al peyote praticamente danno lo stesso risultato, queste due tecniche danno lo stesso risultato, guardate cosa succede se io ruoto di 45 gradi la mia fascetta al peyote, praticamente potrebbe essere stata fatta tranquillamente con la tecnica brick stitch, la stessa cosa avviene se io ruoto di 45 gradi questo mio rombo, potrebbe essere un rombo fatto con la tecnica peyote, quando scegliere una tecnica o quando preferire l'altra? Allora innanzitutto dipende da voi, dipende da come vi trovate meglio nel lavorare, questa è la prima cosa fondamentale, la seconda che è una cosa molto comune a molte persone che lavorano con le perline, si può dire che quando dovete realizzare una fascetta senza dover decrementare o incrementare continuamente il numero di perline per ogni linea, quindi nel caso proprio delle fascette al peyote, è molto più pratico usare il peyote, o almeno la maggior parte delle persone che creano con le perline preferiscono la tecnica peyote, quando invece vi trovate con delle forme piatte dove dovete incrementare e decrementare in modo continuo l'ampiezza della vostra lavorazione, come nel caso di un rombo, come vedete, si parte dal centro e si decrementa, ma se uno vuole può anche scegliere di incrementare ad ogni giro, quindi partire dal basso e poi incrementare, questa è una lavorazione che non è molto comune, nella maggior parte dei casi si preferisce lavorare specularmente perché decrementare la lavorazione in brick stitch la rende comunque più solida rispetto a un incremento, però anche questa è una scelta personale. Comunque, al di là di questo, incrementare e decrementare con la tecnica brick stitch è molto più rapido e veloce e quindi se abbiamo degli schemi dove è previsto il decremento e l'incremento in maniera sistematica, è preferibile usare la tecnica brick stitch perché si velocizza molto il lavoro. E adesso passiamo al tutorial. Iniziamo inserendo sull'ago due perline di colore diverso e portiamo le perline alla fine del filo. Passate attraverso queste due perline un paio di volte, dovete affiancare le due perline, come vedete sono una di fianco all'altra e se preferite potete anche fare un nodo utilizzando queste due parti del filo. Sto uscendo con il filo dalla perlina viola, inserite sull'ago una perlina nera e poi entrate nella perlina viola nella stessa direzione con la quale ci siete passati precedentemente. Anche questa perlina nera deve essere posizionata lateralmente rispetto alla perlina viola, quindi dobbiamo affiancare tutte queste perline. Con l'ago ripassiamo attraverso la perlina nera. Inserite sull'ago una perlina viola e poi ripassate attraverso la perlina nera, ovviamente nella stessa direzione con la quale siete usciti precedentemente. Ho ripetuto gli stessi passaggi fino ad avere sulla mia lavorazione 13 perline, una di fianco all'altra e come vedete con il filo sto uscendo da una perlina nera. Inserisco sull'ago una perlina nera e una perlina viola. Adesso dobbiamo osservare la lavorazione. Praticamente ci sono questi pezzettini di filo che congiungono le varie coppie di perline. Abbiamo un pezzettino di filo qui che fa da ponte tra la perlina nera e la perlina viola e anche dopo abbiamo un altro pezzettino di filo che è questo qui che fa da ponte tra la perlina viola e la successiva perlina nera. Con l'ago dobbiamo passare sotto il secondo ponte, diciamo, chiamiamo tutti questi piccoli segmenti di filo dei ponti, perché sembrano tali, e passiamo con l'ago sotto il secondo ponte, quindi il pezzetto di filo che congiunge la perlina viola con la perlina nera. È molto semplice. Ho tirato il filo e le perline si sono posizionate in questo modo, come vedete. Adesso devo passare con l'ago attraverso la perlina viola, andando dal basso verso l'alto. All'inizio di ogni giro io consiglio di fare anche un ulteriore passaggio per fissare bene la posizione di questa perlina nera. Quindi, con l'ago passiamo attraverso la perlina nera dall'alto verso il basso, e poi passate attraverso la perlina viola dal basso verso l'alto. Adesso, come vedete, le perline sono messe una a fianco all'altra nella corretta posizione, e come vi dicevo, vi consiglio di ripetere questo passaggio ad ogni nuovo giro, perché così proprio fissate la posizione della perlina più esterna. Adesso diventa ancora più semplice, quindi inseriamo la perlina sull'ago, una perlina nera, e con l'ago passiamo sotto il ponte successivo, in questo caso, quello che collega la perlina nera con la perlina viola. Non è importante la direzione che scegliete per passare attraverso il ponte fatto con il filo, è indifferente. Scegliete quella che vi è più comoda. Tirate il filo e poi, con l'ago passate attraverso la perlina nera, dal basso verso l'alto. Adesso è la volta di una perlina lilla, e dovete ripetere esattamente gli stessi passaggi fino alla fine del giro, fino alla fine della linea. Come vedete ho completato la mia linea, ho utilizzato tutti i ponti che erano presenti tra le mie perline del primo giro. L'unica cosa è, fate attenzione alla sequenza che scegliete di mettere in questo secondo giro, perché se l'obiettivo è ottenere questo semplicissimo disegno, dovete lavorare a specchio, per quanto riguarda la sequenza. Quindi, quando raggiungete il centro della vostra lavorazione, che è qui, dovete invertire la sequenza in modo speculare. Quindi, come vedete, io sono arrivata a terminare la metà della mia linea con una perlina viola, quindi poi ho ripetuto una perlina viola e sono andata, specularmente, a completare la sequenza in modo che fosse uguale alla prima metà della mia linea. Per iniziare un altro giro, un'altra linea, dobbiamo ragionare come abbiamo fatto prima, però vi voglio comunque mostrare i passaggi per evitare che vi confondiate. Quindi, inserite sull'ago due perline, una nera e una viola. Poi, saltate la prima connessione tra le due perline, il primo ponte, e fate passare l'ago sotto il secondo ponte che congiunge la perlina viola alla perlina nera successiva. Tirate il filo e poi, con l'ago, passate attraverso la perlina viola, andando dal basso verso l'alto. Adesso il mio consiglio è quello di fissare la posizione corretta per la perlina nera. Quindi, passate con l'ago attraverso la perlina nera, andando dall'alto verso il basso. Poi, passate attraverso la perlina viola, dal basso verso l'alto. E adesso possiamo iniziare ad aggiungere nuove perline, come abbiamo fatto nel giro precedente. Adesso vi voglio mostrare come concludere la parte finale di questa forma rombo, in modo che ci sia la punta. Nella mia realizzazione vedete il rombo quasi completo, manca solo un'ultima punta, però in realtà voi questo procedimento lo dovete applicare nel momento in cui finite la prima metà e poi lo andrete a riapplicare nel momento in cui completate anche la seconda metà. quindi dovrete ripeterlo per due volte. Come vedete, io ho una linea qui composta da quattro perline. Inserisco sull'ago la mia coppia di perline, una nera e una lilla, e con l'ago vado a passare sotto la seconda connessione di filo tra le perline, quindi il secondo ponte. Tiro bene il filo e poi passo attraverso la perlina lilla dal basso verso l'alto. Fisso la posizione della perlina nera passando attraverso la perlina nera andando in direzione dall'alto verso il basso e passo attraverso la perlina viola andando dal basso verso l'alto. Devo inserire l'ultima perlina della mia linea, quindi metto la perlina sul lago, la perlina nera e poi con l'ago passo sotto l'ultimo ponte di filo presente sulla mia lavorazione, l'ultimo ponte libero. A questo punto passo attraverso la perlina nera andando dal basso verso l'alto. Inserisco sull'ago due perline nere e poi con l'ago passo sotto il secondo ponte. Passo attraverso la perlina nera dal basso verso l'alto, poi cerco di perfezionare la posizione di questa perlina nera passando attraverso la seconda perlina nera andando dall'alto verso il basso e poi di nuovo passo attraverso la perlina nera, la prima, dal basso verso l'alto. Il modo più semplice per creare la punta finale della nostra forma è quella di inserire una perlina nera sull'ago e poi con l'ago entrare nella perlina nera successiva. Potete ripassare attraverso le tre perline diverse volte per fissare bene l'ultima perlina alla lavorazione e se volete quest'ultima perlina la potete utilizzare per creare un occhiello in modo che voi possiate collegare o indossare il rombo attaccandola a una monachella come un orecchino, come un pendente. Per creare l'occhiello la cosa da fare è innanzitutto uscire con l'ago dall'ultima perlina che avete inserito. Poi inserire sull'ago una certa quantità di perline, la quantità di perline dipende da quanto voi volete grande il vostro occhiello, quindi se lo volete molto grande inserirete più perline, se lo volete più piccino inserirete meno perline e poi ripassate attraverso la perlina dalla quale siete usciti. A questo punto il vostro lavoro sarà a metà, quindi dovete ripassare attraverso tutte le perline fino a che non raggiungete la linea, l'ultima linea che voi avete, che sarebbe questa e nel momento in cui la raggiungete poi continuate a lavorare così come avete fatto per la prima metà, aggiungendo anche questi ultimi passaggi che abbiamo visto adesso per creare la punta specularmente anche sull'altro lato della lavorazione. Per chiudere la lavorazione vi basterà o ripassare attraverso le perline diverse volte fino a quando non sentite che il filo sia ben fissato sulla lavorazione, altrimenti potrete anche fare dei nodi e vi rimando a un tutorial che ho fatto apposta per la chiusura del lavoro, vi lascio il link nell'info box. La stessa cosa dovete fare nel caso in cui il filo non fosse sufficiente per terminare la lavorazione, se il filo non è sufficiente dovete chiudere il lavoro ripassando nelle perline o facendo dei nodi e poi aggiungere il nuovo filo e per aggiungere il nuovo filo vi basterà ripassare il nuovo filo attraverso le perline che sono già presenti sul lavoro diverse volte fino a quando non sentite che tirando il filo questo non scivola attraverso le perline. A questo punto siete sicuri di poter continuare la vostra lavorazione uscendo con l'ago dall'ultima perlina che avete aggiunto in modo da poter proseguire con l'aggiunta delle vostre perline. Fino ad ora abbiamo visto come decrementare la dimensione delle nostre linee di brick stitch per creare questa forma a rombo, ma vediamo cosa succede se noi invece vogliamo incrementare la lunghezza della linea, quindi immaginiamo di voler rendere la nostra ultima linea, cioè questa, più lunga della precedente. I passi da fare sono veramente semplicissimi. Inserite sull'ago una perlina, a questo punto il colore è irrilevante, e passate attraverso la perlina nera dalla quale state uscendo, andando dal basso verso l'alto. Se tirate il filo vedrete che la nuova perlina lilla si andrà a posizionare a fianco della perlina nera precedente. Se volete che la vostra linea sia ancora più lunga, non dovete fare altro che passare attraverso l'ultima perlina inserita, in questo caso quella viola. Inserire sull'ago una nuova perlina, io ho scelto la nera, e ripassare attraverso la perlina viola. Tirate il filo e poi ripassate attraverso la perlina nera che avete appena aggiunto. E procedete in questo modo fino a che non raggiungete la lunghezza che desiderate per la vostra lavorazione. Ovviamente per continuare la lavorazione non dovrete fare altro che aggiungere perline su questa nuova linea, quindi anche iniziare un nuovo giro, così come abbiamo fatto nei passaggi precedenti, esattamente gli stessi passaggi, come quando abbiamo iniziato ed avevamo una singola linea sulla quale dover aggiungere nuove perline. Come avete visto la lavorazione è veramente semplicissima, spero che per chi magari avesse perso il video vecchio, sul brick stitch, questo video possa essere utile, per chi invece non l'aveva perso magari comunque si vede meglio, non lo so, spero comunque possa esservi utile. E niente, io torno alla mia collana e ci sentiamo al prossimo video, ciao ciao ciao!